Perché usare Linux? Perché usare Linux in soltoni? Questa mattina mi sono scontrato con l'ennesimo problema di Windows Sì, ebbene, ho anche una partizione con Windows O meglio, ho un sistema portatile con Windows Windows 8.1 per esattezza, comprato Il discorso, che cosa è successo? È da circa, o dall'aggiornamento del primo martedì del mese, mercoledì che calcolo è Quando rilasciano gli aggiornamenti di casa Microsoft Che non riesco ad installare i programmi Tutti i programmi che sono certificati con lo scudino, insomma, tanto per farvi capire Quali lì si installano tranquillamente I programmi senza scudino E ci sono una varietà infinita che non sono certificati Anche Avira, l'installer di Avira non è certificato O Firefox e tutto il resto Non si installano, non si installavano in nessuna maniera L'unico modo per poter installare è bypassare Cliccare con il tasto destro e segui come amministratore Non tanto user friendly come esperienza d'uso Che cosa scopro? Scopro dopo circa una settimana che mi si presenta questo problema Perché poi l'avevo tralasciato e mi avevo rassegnato Utilizzando principalmente Linux, quindi non ce l'ho più messo peso Pensavo sì, è un problema di casa Microsoft Ed effettivamente è un problema di casa Microsoft Ho scoperto, navigando questa mattina Preso dal nervoso perché non riusciva ad aggiornare Dropbox Senza avere errori Che è un problema proprio di un aggiornamento di Microsoft Si verifica praticamente che la cartella temp Dove vengono decompressi gli installer Non aveva i permessi sufficienti per il mio utente Peccato che il mio utente era un utente amministratore Quindi rendetevi conto del paradosso Io sono un unico amministratore dei PC Ho tutti i permessi settati E' un controsenso che mi fa una cosa del genere La soluzione è avvenuta appunto Seguendo un link su un form Di un utente che ha avuto questa brillante idea Di andare a controllare la cartella tempia E andare a verificare Ed effettivamente era quello il problema Ovviamente vi lascio immaginare Le risposte più cazzare che sono state Che sono apparse su Google Anche perché questo bug era già stato segnalato in passato Nel 2010, nel 2009, nel 2010 Diciamo che si ripete ciclicamente questa cosa qua E le risposte più cazzare che dicevano Virus, il qua virus di grave Infatti io in questi giorni avevo provato 5000 antivirus E il sistema era giustamente pulito Perché io non sono un utente Di quelli che si mettono a cliccare Avanti, avanti, avanti Senza pensare a quello che fanno Bene Fatto sta che comunque Un aggiornamento di Microsoft Che non ancora ci mette la patch Per risolvere questo Vergognoso perché se un problema è segnalato Ci sono anche due utenti che l'hanno segnalato Cioè, metti una patch Che farà correggere una cosa del genere Perché è abbastanza grave Bah Ecco perché Ecco perché è uno dei motivi per utilizzare Linux Su Linux c'è un problema Tempo 24 ore nemmeno C'è già la soluzione C'è già la patch C'è già l'aggiornamento di sistema Che va a correggere quell'errore Casomai quell'errore Fosse inavvertitamente arrivato All'utente finale Cosa che peraltro è Impossibile sulle distro principali Io in questo periodo Sto utilizzando Fedora Fedora Zero problemi Tutti gli aggiornamenti sono strasicuri Stai controllati Prima di buttarli Nonostante io abbia abilitato Anche il ramo testing di Fedora Quindi vi lascio immaginare Sto nel ramo testing Quindi potenzialmente Esposto a problemi di sicurezza O bug di ogni genere E nemmeno in quel caso Mi arrivano errori Cioè La solidità Ecco perché Utilizzare un sistema Linux E non utilizzare O meglio GNU Linux Altrimenti Starman mi picchia E non utilizzare Un sistema Windows Windows Nonostante sia un sistema Dove c'è gente Che programma Gente che Dovrebbe sapere Quel che fa Perché sono tutti professionisti Presenta ancora Problemi Di questo genere Per non parlare Vabbè Degli altri problemi Che si presentano regolarmente Con Windows Bene Con questo è concluso Un saluto Ci vediamo alla prossima Un prossimo rant Quotidiano Ciao ciao Ciao